Un ventriloco viene chiamato in Sardegna per fare una serie di spettacolini della sua specialità quindi mentre sta viaggiando in macchina nell'entroterra sardo gli viene una sete pazzesca e vede una piccola tenuta non molto lontana da lui ci si avvicina con la macchina, scende e gli va incontro un contadino che gli dice aio buongiorno qual buon vento in cosa posso esserle utile e questo signore guardi le volevo chiedere una gentilezza se mi poteva dare un bicchiere d'acqua che sto morendo di sete ma certo aio è un grande piacere anzi è il benvenuto qua io sto sempre solo con i miei animali è un grande piacere averla qui insomma sto contadino gli va a prendere l'acqua e sto ventriloco pensa purello però sto contadino qua da solo in mezzo a st'animali abbandonato quasi quasi che faccia uno spettacolino per ristorarlo un po' quindi sto contadino torna gli porta l'acqua sto ventriloco beve l'acqua e poi gli dice a sto contadino senta ma lo sa che è possibile parlare con gli animali e il contadino e aio ma cosa sta dicendo ma gli animali non parlano guardi glielo dimostro guardi insomma sto ventriloco si rivolge al maiale e gli dice ciao maialino che cosa fai qua di bello e con la voce del ventriloco beh io sto qua mi diverto tanto e mi trombo tutte le maialine e il contadino e il contadino aio mamma mia ma incredibile ha parlato veramente il maiale ha visto glielo dicevo che era possibile adesso guardi cosa faccio insomma si rivolge al coniglio e gli fa ciao coniglietto che fai qua di bello e con la voce del ventriloco e io sto qui mi diverto tanto e mi trombo tutte le conigliette e il contadino aio ma veramente una cosa incredibile e il ventriloco ma si signore è possibile parlare con gli animali basta che gli parla piano piano guardi adesso che cosa faccio con quella pecora lì e il contadino no no aio lasci stare quella pecora che dice un sacco di cazzatte